Cari maestri, Palazzo dei Principi, Museo Il Correggio con Katia Papaleo. Con lei che in questa mostra dedicata a Valla all'Emilia e ha il colore soprattutto definito, eternamente sospesa in equilibrio per l'eccellenza con cui risolve entrambe le situazioni, fra la parte cosiddetta informale, quasi astratta, e la parte della figurazione. Fra l'altro se Serafino Valla copre il volto con il suo cappello per conoscere meglio se stessi, qui c'è qualcun altro di cui non vediamo il volto, ma in qualche modo avvertiamo e avvertiamo noi stessi tutta la forza dello spirito dell'anima in un dialogo con l'opera d'arte stessa, che in questo caso è l'opera di Katia Papaleo, con chi sa benissimo muoversi su questo filo sottile che unisce il colore alla figurazione. Grazie mille. Sì, in effetti in quest'opera è veramente evidenziato quello che è la sospensione, la sospensione di quelli che sono i pensieri e la sospensione di tutto ciò che è tutto e il contrario di tutto. La teoria del nulla è la teoria del tutto, è racchiusa in quest'opera. Fra figurativo è vero e anche informale, in quest'opera non faccio altro che raccogliere raccontare i pensieri. I pensieri non si possono solo descrivere con una figura, ma spesso anche col colore. E questo è il mio modo di esprimermi. Grazie.